Nella nostra nuova casa ci piace praticamente tutto, ma ci hanno dato la possibilità di realizzare il nostro sogno. Abbiamo conosciuto Facile Ristrutturare attraverso la trasmissione televisiva di Paola Marella. Io ho inviato una mail alla Facile Ristrutturare e nel giro di 24 ore ci hanno risposto e ci hanno assegnato il mio eccezionale architetto Carmen, con la quale abbiamo realizzato il nostro sogno. Ci siamo andrati molto bene. Io tutt'oggi ringrazio l'iniziativa di mia moglie, che in quel famoso giorno inviò la mail alla Facile Ristrutturare e da quel momento abbiamo iniziato un percorso indimenticabile. Della nostra nuova casa ci piace praticamente tutto. Per quanto mi riguarda, la parte che più mi ha entusiasmato è sicuramente la zona giorno, quindi questo salone molto ampio, molto grande, molto luminoso, ben suddiviso dalla cucina. Io mi sto volendo la stanza da letto, perché noi abbiamo finalmente recuperato uno spazio per il bagno in camera e anche la famosa gabbina armadio alle spalle del letto, che è veramente molto comoda. Certo, consiglieremo Facile Ristrutturare. È una società seria, fatta veramente di persone per bene. Con il lavoro ci siamo trovati bellissimo e ci hanno dato la possibilità di realizzare il nostro sogno, quella di avere una casa bellissima.